E' emergenza per i raccolti e prodotti agricoli in Toscana dopo le temperature delle scorse notti che hanno toccato anche meno 9 gradi, in un momento in cui germogliano i fiori delle piante da frutto. Ingenti danni che si preannunciano di milioni con un taglio che va dal 50 al 75 per cento della produzione. Insomma un colpo terribile per le aziende agricole già in crisi. Le richieste d'aiuto sono arrivate da molte zone della Toscana anche dall'Aretino e oggi così la regione oltre a chiedere lo stato di calamità naturale al governo ha anche attivato la procedura per le segnalazioni dei danni avvenuti tra il 7 e l'8 aprile. Le segnalazioni fa sapere la regione potranno essere presentate sul sistema informativo Artea mediante la compilazione del modulo ID 2042 sino alle 24 del 30 aprile. Quelle pervenute potranno consentire alla regione di chiedere al ministero una misura di intervento in deroga alla normativa vigente che prevede l'attuazione di interventi compensativi a sostegno delle aziende agricole colpite da calamità naturali, avversità atmosferiche ed altri eventi catastrofici. Le aziende agricole possono beneficiare degli interventi compensativi a condizione che l'evento climatico non rientri in una delle fattispecie assicurabili al mercato agevolato previste dal piano assicurativo agricolo nazionale e che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale complessiva. Per tutti coloro non coperti dalle assicurazioni agevolate la regione dunque richiederà il riconoscimento di calamità da parte del ministero. Questo potrà consentire oltre ad un minimo ristoro la proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio di miglioramento e di credito ordinario nonché l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.